Stefano Bettarini a cena con Elenir Casalegno? Corsi che però quando si incontrano sono sempre uguali, senza filtri, come quelli che si vogliono bene al ciao, come noi, come me e Elenir quelli che hanno fatto un viaggio insieme e non si sono mai persi di vista, è scattata la scintilla fra Bettarini e la Casalegno, noi vi terremo aggiornati, continuate a seguirci. Grazie a tutti!